Salve a tutti ragazzi, qui è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovo video su Dragon Ball Z Token Battle versione global Siamo sempre in periodo Golden Week, oggi infatti andiamo a pullare su Vegeta Nuvo GT Che se vi siete persi, nello scorso episodio, nello scorso video abbiamo pullato su Goku GT Che vi lascio qua nelle schede, da qualche parte comparirà, non lo so Quindi mi raccomando andate a recuperare il video se non l'avete ancora visto Che merita, merita che i nostri metodi infallibili di trovare roba Poi andate a vedere il video e capirete, capirete Va bene, non perdiamoci il chiacchiere, oggi abbiamo da pullare su Vegeta GT Che ci aspetta anche da lui un giro free che mi raccomando Vegeta, non ti voglio Tutto cerco tra di te, gli altri mi va bene pure quel Trunks, è la bellino che era Vegeta, vai via, non ti voglio proprio, via, sciò Come sempre i multi sono scontati a 35, 40, 45 Ci danno 7, 8, 9 coin rispettivamente Più una free finale, quindi sono 4 multi, in un totale di 110 stone Quindi rivedremo sulle 5 e 58 Che non è un numero troppo basso, ma nemmeno altissima Per l'anniversario dovrò conservare ancora per un po' Quindi sperando che Vegeta non lo trovo, perché non lo voglio E niente, sperando di trovare un bel po' di Stitans Va bene, iniziamo con la prima multi e sperando che possa andarci solo meglio Via Iniziamo Trunks Trunks Ok, Trunks Trunks che significa? Niente C'è proprio 0, Trunks, 0, 0, 0 No vabbè gli SSR fanno schifo di sto gioco, vabbè non li voglio Beh Vegeta e vai Tra il Vegeta e il Sr Mi sa pure sto Vegeta e il Sr Dall'altra parte c'era GoSR in Ritup Ma c'è sto Vegeta Beh Per essere ora la prima multi, ti dirò Siamo andati pure oltre quello che mi aspettavo con un'animazione del GR GoGi da Billy di 1 E chi lo butta via? Ah ma si Prendi e porta a casa, prendi e porta a casa Prima multi, già andata da Dio, già mi ha contato così Perfetto Gigi GoGi Pure piccolo che fa il Kagemushin o Jutsu Non mi interessa caro GoGi da già primo premi Va bellissimo Io ripeto che io per Vegeta non lo voglio Mi fa proprio cagare Eh no, basta E chi lo vuole Vegeta? A che serve il nuovo Vegeta? Oh buono lui Buono lui per le nuove Road Shadow Dragon Saga Lui è un ottimo personaggio Veramente un ottimo res summon Va bene GoGi da portata a casa GG per la prima multi D'addio proprio andata, d'addio Con il full nonno a Sharon che è un ottimo res summon Prossimo signore, seconda multi 40 stone Ripeto io che Vegeta non lo voglio Vegeta proprio Il nuovo Vegeta che fa il Galic Ga Mi sta antipatico Non mi piace proprio Non mi piace Un po' di gente a caso Va bene Però quando c'è Yamcha La scorsa volta con Yamcha Nah, sta l'altra Yamcha non si è impegnata Yamcha, Yamcha Beh, prima con l'arrivazione di inverno Ho trovato con Jeta quindi Capiamoci Posso trovare qualsiasi cosa Vegeta SR Ecco la cosa volevo trovare Quanti Vegeta SR ci sono in redapp? Un botto Credo ci sia l'Intertec E poi boh Ci sono un bel po' Minodia Un saluto caro Un saluto Cici Sdrum Sdrummano Gontin Credo che regolarti a mettere la bacia di Goku Peccato My future Madonna Sdrummano Non per niente Tu non sei po' di niente Full-lab Tu non sei full-lab Vegeta Eeeh Super Saiyan 2 Quello pezzotto Quello pezzotto Quello pezzotto Me non lo voglio Perché i Super Vegeta non lo voglio Io non lo voglio Io non lo voglio Eeeh Eeeh Non lo so niente una parola Che è sto Super Saiyan 2 po' Pezzottata di verosimile Eeeh Abbiamo le ultime due multi 45 Quindi arriremo a 5 58 Sì 5 3 Eeeh Più o meno Eeeh Andiamo prossimo Gioco mi raccomando Vegeta Non lo voglio Mh Mi dai Ma manco Trunks e l'Essamulo Sai chi voglio Vegeta Super Saiyan 3 Krilin Mh Eh questo è un bel Vegeta Super Saiyan 3 Mh Ugualità Sì sì Questa mi sta di Vegeta Super Saiyan 3 Te se Dai mi sta un bel Vegeta Super Saiyan 3 Vedi Goku Super Saiyan 3 Intu Vegeta Super Saiyan 3 Mh Te se Nappone con la sua pelata magica Piccolo Grande piccolo Vegito SR Vedi questo è il Red Up L'ho detto Vecito Tech Quello sbagliatissimo proprio Che diciamo Quello buono sta nella pace di Goku Questo Non per niente Full Hub Come ogni Red Salmon esistente al mondo Tutto Full Hub Vabbè rettete accettiamo Sei tipo la capra Quella esclusa dal gruppo Non lo so Noi Ok abbiamo 17 Ghetto Saiyan Man Dov'è il banner? Perché ha detto qualità Beh allora Ripetiamo sta Diciamo che io Vegeta Ripeto non lo volevo Ok? Io l'ho detto dall'inizio video Siete tutti i partiti Non è vero lo volevo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Dai Ogni tanto Quando suddocka Mi impegno per scolare O lo faccio per bene O non lo faccio Anche se Ho visto gente fare di peggio Tipo Vegeta La nuova Cioè nuova era Gogeta dentro Che cavolo ne so Golden Freezer fisico Che lo stesso Io non voglio Golden Freezer fisico Cioè io pure quello Lo schifo Ma proprio maledettamente Via Mi fa proprio cagare Golden Freezer fisico Non lo voglio Quindi GG Vegee da blu C'entra un cazzo Va bene Che dire GG 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 Cosa sta caricando GG Eh Signori Beh io potrei pure Non fare la free Vabbè la free Costa 0 stone C'è scritto 0 Come fai a non fare La multi da 0 stone E' bellissimo Perché su tutte le multi Non sono 0 stone Multi infiniti Da 0 stone Signori Ultima multi Che dire Vegeta è stato trovato Sicuramente L'ho locato Non mi ricordo Si Nei prossimi giorni In live Se non lo stesso No non credo Quando caricherò questo video Non credo che Starò in stream Però Molto probabilmente In streaming su Twitch Vi troverete Per farmare Questi nuovi personaggi Questo nuovo Questo nuovo Vegeta sicuramente Non mi spoiler Da Goku Cos'ho trovato Così Ma lo dovete Andarvedere voi Eh Farmerò anche Nuove history Quindi mi raccomando Vi aspetto Link in descrizione Ogni giorno 16-19 La sera Le 21 Uno di questi Orari Mi mette Se mi mette Su Tocca Molto per me Stavo farmando Sto Vegeta O Cioè dovessi aver trovato Goku Goku O sicuramente Listori nuovo Ok va bene Signori Ultima multi E sperando che il gioco Non ci faccia Trovare Golder Che io non lo voglio Golder Mi fa proprio schifo Golder Perché hanno visto Golder e poi Un PG di merda Vedi Vegeta Non lo voglio Golder Vedi Vedi Nemmeno Vegeta Non lo voglio Golder SuperSandre Vabbè SuperSandre Lasciamo stare Lasciamo stare Abbiamo Herkul Nelkul Shisami Kurilin Android numero 16 Gohan del GT Spopovic Non si serve Un a caso Pure il sample decente Tipo come prima No Asher Wish 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 No Wish Wish Che La Direi No Non mi dice nulla Golder SuperSandre Gohan Teen Vabbè GG GG Signori Che dici Io vi saluto Spero che questi due video Vi siano piaciuti Bull Fai un piacere Se vi amare Poi sotto nei commenti Cosa avete trovato Sia se avete pulato a Coco Da Vegeta Sicuramente Nei prossimi giorni Vedrete lo showcase Di Vegeta Sicuramente Poi Non vi dico se c'è anche Coco Oppure no Lo vedrete voi Se ci sarà lo vedrete Se vi è piaciuto il video Potete lasciare un like Iscrivervi al canale E noi quindi ci vediamo Al prossimo video